Siamo qui con Chica Carbonara che in questo momento rappresenta l'azienda Chilua. Tre parole per descrivere la vostra squadra? Direi bellezza, unicità e salvaguardia dell'unghia naturale. Tre parole per descrivere Chica Carbonara? Sempre attenta, sempre alla ricerca della nuova filosofia, sempre innamorata di Chilua. Chi può lavorare con voi? Possono lavorare con noi tutte le persone che hanno a cuore qualità di prodotto e certezza di risultato. E tutte le persone che hanno una grande curiosità, per cui che hanno bisogno di costanti aggiornamenti e vogliono conoscere l'ultima tendenza e associarla ad un ultimo prodotto. A questo proposito Chilua è sempre attento al consumatore. Qual è la caratteristica principale dei vostri prodotti? Fondamentalmente la caratteristica di ogni prodotto Chilua è il fatto di essere privo di acidi metacrilici, nickel free e soprattutto, valorizziamolo, essere un prodotto italiano, prodotto a Castel Bolognese, quindi nel cuore dell'Italia, tu lo sai Giovanni e tanti anni che ci conosciamo, complimenti per il tuo progetto, nuova bellezza e sai che l'azienda ha in seno la propria struttura del laboratorio di ricerca. Il vostro prodotto di punta in questo momento? Sai che per ogni fiera, per una poi importante come quella che è Cosmo, Chilua propone tante novità. Se ti dovessi dire, se tu mi costringessi a dirtene una di punta, ti direi sicuramente lo smalto, lo smalto UV che in Chilua si chiama Chilac, che è da sempre, da quando il fenomeno è così dilagato, prodotto di punta. Ti direi tutte le nuove colorazioni del kit alta moda, ma siccome so che a te piacciono, ti direi TK Fusion, cioè il colore che cambia colore. smalto UV che ha una temperatura quindi termocromici, che al caldo hanno una certa colorazione e al freddo cambiano completamente la loro natura colorata, diventando in alcuni casi proprio anche l'esatto opposto del colore che presentano ad una certa temperatura. E invece per quanto riguarda il Chilac smalto in penna? Sì, allora tu sai già che noi avevamo introdotto la penna come strumento per la laccatura e l'avevamo introdotta con ad infinitum gel, quindi per quei colori, quei gel French colorati che sono adattissimi per laccare la ricostruzione o fare lo smalto permanente. Nel caso invece delle ad infinitum, delle PASPEN Chilac, abbiamo semplicemente il laboratorio di ricerca e sviluppo ha trasportato, trasformando leggermente il composito, quindi rendendolo molto molto simile a quello che è lo smalto tradizionale, ha posto quel composto all'interno delle penne. In più ha semplificato il sistema creando una base e un top in un unico prodotto, quindi base and top, quindi adesione e sigillatura del colore in una penna e tutti i colori smalto vi chilac nella penna ad infinitum PASPEN Chilac. Ti voglio far notare che la laccatura fatta con questa penna è particolarmente facile perché il pennello è un pennello tecnico studiato appositamente per l'orientamento, per il suo orientamento, per cui nella laccatura il pennello si aprirà esattamente, ricoprendo perfettamente la zona della lunula a salire, laccherà perfettamente l'unghia e ancora più importante il click che viene dato per far scendere il colore, basterà un click per avere la misura ottimale per laccare un'unghia. Poi è chiaro che dipende dalla lunghezza delle unghie, per cui magari un click diventa anche troppo per una, ma semplicemente ci si sposta man mano, la laccatura diventa velocissima, i colori sono iperpigmentati, quindi non lasciano sfidatura in trasparenza, ci sono alcuni colori addirittura per i quali si potrebbe fare un'unica laccatura, poi è vero che la scuola insegna la doppia laccatura magnifica il colore. Ok, quindi è uno strumento innovativo, adatto anche alle più inesperte? Assolutamente, come diciamo sempre e magari non è gentile verso gli uomini, lo potrebbe fare anche un uomo. Un aggettivo che vi distingue verso le altre aziende? Beh, l'aggettivo che ci distingue rispetto a tutte le altre aziende, almeno fino ad oggi, è Made in Italy, produttori Made in Italy. Una domanda, quanta strada sentite di aver fatto e quanta pensate di averne ancora da fare? Qui è un po' come la formazione, si dice e si ripete a Iosa che non si smette mai di imparare, quasi non la si può più sentire perché è un modo di dire molto abusato. Strada ne abbiamo fatta tanta, storia ne abbiamo tanta alle spalle, strada da fare. Io ti potrei dire c'è sempre qualcosa a cui ispirarsi e questo rende innovativi, questo rende vivi, questo rende dinamica, forte un'azienda. Speriamo di mantenere il trend, l'augurio che farei a Killua sarebbe questo, mantieni il tuo trend. E da donna, un consiglio a tutte le donne che ti stanno ascoltando in questo momento, un suggerimento per il colore Primavera Estate 2014. Allora, il consiglio che darei alle donne è il cuore dello slogan di Killua che è ogni persona è unica per Killua, per cui sì, essere fashion victim e seguire, o comunque a farsi ispirare dalla moda, ma a tirare fuori sempre la propria identità e siccome la moda dice pastello, io adoro, per esempio personalmente, li sto portando, adoro questi colori pastello. Penso a mia madre che invece ama i rossi in tutte le sfumature, ma devono essere rossi. Siate voi stesse, se vi piacciono i pastelli, Killua ce li ha, se vi piacciono i colori decisi, Killua ve li propone e ce li ha, ma scegliete voi il colore che fa per voi.